Nome Ludovica Michael Cognome Pastore Battistin Soprannome Corpetta Farfallina 26 Età 19 23 Da dove vieni? Da Venezia Venezia Le tue fobie? Ho paura dei camion e del buio Penso di non avere fobie particolari Chi è il più timido? Forse io Sì, io La più timida lei? Il tuo colore preferito? Il nero, ovvio Giallo Il tuo cantante preferito? Beyoncé Il mio cantante preferito è indubbiamente J-Ax Vasca o doccia? Vasca, mille volte Vasca tutta la vita Mare o montagna? Mare Mare Ma voi dovete siete fidanzati o fratelli? Ovviamente fratelli Sto scherzando Siamo fidanzati Fratelli? No, vabbè scherzo, siamo fidanzati Di chi è stata l'idea di aprire il canale? Ovviamente sua L'idea di aprire il canale è stata mia Perché vi chiamate Polpetta e Cotoletta? In realtà non c'è un motivo Ci siamo iniziati a chiamare così e basta Per scherzo Non c'è un motivo per cui ci chiamiamo Polpetta e Cotoletta Quindi non c'è una ragione, non c'è un motivo Non c'è niente, ci chiamiamo così e basta Avete hobby? Io sì, ballare Sì, io ho l'hobby di tutta la tecnologia existente sulla macchia della terra Chi è il più attivo sui social? Decisamente io, lui non lo usa mai La più attiva sui social è lei Qual è il vostro social preferito? Instagram Il mio social preferito è YouTube Qual è il tuo youtuber preferito? Awed Amedeo Preziosi Voi due litigate? A volte sì, quando serve Per far capire chi comanda Litighiamo poco dai Non tantissimo poco Chi è il più pigro? Io, dormirei tutto il giorno Lei? Indubbiamente lei Il più bello? Ovviamente io Io? Che domande Vi piacciono gli animali? Direi proprio di sì Sì, molto Ne avete? Io ho quattro cani, io tartarughe, un coniglio e basta No no, anche il pesce rosso Sì, io ne ho uno, è Billy Come l'avete visto, è già uscito anche in un altro video Ciao Billy, saluta, ciao! Chi si veste meglio? Dipende A volte io esco vestito la barbona A volte tocca a lui Però Io Penso a lei Cosa vi piace l'uno dell'altro? Dipende Se fisicamente o caratterialmente Fisicamente è tutto Ma soprattutto gli occhi Caratterialmente Anche là non mi posso lamentare Ormai direi particolarmente piace tutto Non c'è una cosa che mi piace in particolare Mi piace tutto di lei Le parole per descrivere l'altro Fermalosa? Buono E disponibile Tigre Dormiglione E spettacolare Cosa non sopportate l'uno dell'altra? Quando si arrabbia È insopportabile Di lei sopporto quasi tutto Però non sopporto una cosa Dormi tanto E dormirebbe tutto il giorno Ti bacio meglio? Io Ovvio È una domanda Il quanto ambigua Penso io Come vi siete conosciuti? Forse questa domanda È meglio che rispondo a lui Perché io quella sera Stavo scappando E lei mi era in corsa Ovvio È sempre così Allora Ci siamo conosciuti In un modo molto strano Eravamo in discoteca È una delle poche cose Che mi ricordo di quella sera Grazie della vostra collaborazione Di solito Come chiudete i video Così Ciao